Sì, il tuo cuore è buone, vai! Oh ragazzi, ce la so io, non lo sapete voi che siete di Sulmona, è uno scandalo, riproviamo! Eeeh, vola vola! Sono cambiate molte cose in Sicilia, i distributori che l'ha esso ora si chiamano il tuo. Ogni cento si portano i pipì, i pipì, ci sono un scamurrato, per un'allegria. Anche noi abbiamo gli stilisti importanti con Ambalano, a Ambalano c'erano dolce e gabbana, e che se non è fonte noi ci abbiamo ficchie e potate. No, caro amico, non sogno d'accordo, parli da uomo ferito, ah! Pizzo di pane, lei se ne è andata, io non ho mai successo di! Non esistono le fine amore, basta fare un omaggio a un'oreale a una signora, un'alsosa di pallettone in tuo bene, la sciardetta, la volta del cuore, vedrà quando la bimbra è già in cerca di te. Senza l'amore è un uomo, che cos'è? Su questo sarà il d'accordo con me! Senza l'amore è un uomo, che cos'è? E questa è l'unica rete che c'è! Uuuuuh! Tutti i ragazzi di oggi non fanno film e ritardi, che ti sembrano vuoi, ma vuoi non si! Grazie un amico, grazie! Eh? Ragazzi io mi amo! Papa ragazzi di oggi io le voglio bene, io che faccio queste critiche, le faccio per il vostro bene, basta! uscite dalle vostre case, la realtà non è quella del computer, quella è una realtà virtuale, questi incontri virtuali, Facebook, Messenger, su Facebook, tutti quanti amici, si amico, si amico, si amico, si amico, si amico, si amico, ma com'è sta cosa con tradizione, non è possibile, noi ci mettavamo a... No, no, come? Lei ha bambaggiato, che allora? Aspetti un momento, perché è facile, noi diciamo, siccome i miei miei miei...